Benny e Der, attenzione perché è pericoloso. Lo ferma ma non controlla. Marton in contropiede. C'è campo per andare. Salah fa la buona per lui. Ha preso la mira e ha battuto il portiere. Tutto molto bello, sia il contropiede sia la conclusione finale. L'azione del gol che merita di essere rivista, può portiere micidiale direi. Salah ha poi sorpreso il portiere sul proprio palo. Probabilmente non se l'aspettava lì.